Buongiorno a tutti, siamo a IT 2020 Vicenza, siamo qui per presentare la nuova famiglia 92X, ultima evoluzione della storica serie 90. Presenta una serie di modifiche, possiamo andare a vedere come il fusto Vertec, ereditato dalla M9A3, presenta una texture e un grip sostanzialmente diverso. Abbiamo un pulsante sgancio caricatore maggiorato per poter raggiungere facilmente con il pollice della nostra mano, una sicura di tipo F, configurabile con una di tipo G, mantenendo lo stesso carrello otturatore, abbiamo una guida Picatinny inferiore con tre slot per andare a montare qualsiasi dispositivo di puntamento, sia una torcia che sia un laser, mire combat intercambiabili, caricatore in questo caso nella versione compact da 13 colpi, indicatore di colpo in canna sul lato destro dell'arma, finitura classica che caratterizza tutta la famiglia 92, disponibile in calibro 9x21, sia nella versione full size, sia nella versione Centurion, o allo stesso prezzo, che è quello di 1149 euro.